Preside, per la giornata nazionale del trekking urbano, qual è il ruolo della scuola, del virtuoso nel progetto? L'alberghiero virtuoso per tradizione è presente a questa manifestazione estremamente interessante che coniuga ovviamente lo sport, anzi non lo sport, ma l'esercizio fisico con le nostre tradizioni storiche come le altre volte, come gli anni passati, ci occuperemo di rifocillare i passeggiatori quando arriveranno alla meta e quindi offriremo un piatto tipico della tradizione salernitana, cioè una pasta e fagioli alla salernitana con ovviamente utilizzando tutte quante stoviglie compostabili ed ecologiche, visto che parliamo di ecologie e quindi in questo senso avremo anche questa attenzione, speriamo che poi sia di gradimento e la pasta a fagioli sarà con il piccante e senza il piccante, quindi potremo darlo per entrambi i gusti.